L'ictus colpisce ogni anno in provincia di Venezia 1.350 persone tra nuovi casi e recidive. In gran parte sono anziani, sopra i 65 anni, più uomini che donne. L'ictus è la terza causa di morte in Italia e la prima per disabilità permanente. Succede che il cervello si danneggia a causa dell'interruzione del flusso di sangue per una ostruzione, ischemia o rottura, emorragia di un'arteria. Le cellule cerebrali colpite senza l'ossigeno e i nutrimenti trasportati dal sangue iniziano a morire nel giro di pochi minuti e le funzioni controllate da quella zona del cervello vengono meno, con la comparsa dei sintomi. Sono quelli che possono coinvolgere il movimento della bocca, di una mano, di un piede, possono inficiare la parola, possono appannare la vista e vanno subito segnalati a servizio di urgenza e emergenza per arrivare nei tempi più rapidi al più vicino pronto soccorso della nostra rete aziendale. Meglio chiamare il 118 e non andare al pronto soccorso perché ogni minuto di ritardo significa milioni di neuroni persi per sempre. Prima si interviene, meglio è. Tempi e qualità dell'assistenza sanitaria sono fondamentali e non devono superare le quattro ore e mezza dall'ictus. Gli interventi consistono nella somministrazione di un farmaco per via venosa che consente e favorisce lo scioglimento di questi coaguli e nel momento in cui, questa è un po' la novità degli ultimi anni, vi sia l'ostruzione di un vaso più grosso e quindi il farmaco non sia efficace, si va ad agire proprio all'interno del vaso rimuovendo meccanicamente il trombo e un po' quello che avviene, come dicevo poc'anzi, per le arterie del cuore, per le coronarie. Il problema appunto del tessuto cerebrale è che abbiamo pochissimo tempo e quindi va valutata con attenzione se vi sia la possibilità di recuperare del tessuto cerebrale e quanto tempo abbiamo per farlo.